buongiorno ecco qua che vi voglio presentare un video ricavato da della documentazione che avevo già inserito nel computer già da tempo e che adesso vi faccio vedere è un attimino che giro qua così potete vedere allora di cosa si tratta si tratta che leggiamo qui come avrete potuto notare sono un po fissato nel voler raccogliere le memorie per poterle tramandare questo l'avevo scritto un po di anni fa già con la raccolta degli oggetti usati dai nostri doni che ora si possono vedere nel museo ciardi castello al ferro ho dato e ho dato prova della mia passione poi va bene poi in seguito anche fatto altri altri due chiamiamoli musei la raccolte di cose di un tempo più che più che musei raccolte di cose e allora di cosa voglio parlare oggi qua cose che riguardano la corale è il coro in cui ho cantato per tanti anni ora qui vorrei raccogliere e rendere visibile un pezzo di storia della corale dell'associazione se lievi fiat poi diventata corale di torino ecco purtroppo a parte di voglia di coro che poi ne riparleremo poi più avanti perché li ho che sono riuscito a recuperare a causa di vari traslochi mi sono rimaste poche cose le prime due cose importanti ovviamente di cui sono in possesso sono il primo è unico disco 33 g registrato prima del 1980 quando il coro era diretto dal maestro sergio pasteris il secondo reperto è una cassetta registrata prima del 1990 sotto la direzione del maestro massimo pairetti e qui di seguito li vedrete riprodotti in fotografia poi più avanti sempre in questo stesso settore troverete alcuni canti che per non andare contro le regole della scia ci ha scoperto che si possono inserire brevi popolari e anonimi e autori dopo 75 anni dalla morte a parte questo nel computer io solo che qua adesso non sono ancora in grado di farvi sentire però perché io qui sto facendo una cosa artigianale allora adesso qui faccio ascoltare un pezzo di un canto che ho recuperato e che un attimo che ve lo faccio sentire e ce l'ho qua nel nel telefonino perché qua bisogna inventarle tutte allora boh faccio sentire questo che l'avevo già messo qui ecco allora ecco senza disturbare troppo il canto vi faccio vedere questo è il disco di cui abbiamo parlato prima ecco questa era la copertina col disco e questa è la cassetta è la cassetta dove state bravi e qui c'è i cani che disturbano e io questi video li faccio una volta sola perché poi due volte non voglio dire ripetere ecco qua la cassetta ecco qua si leggono c'è un altro che si leggono meglio ecco qua i coristi sono i nomi dei coristi di quel tempo della cassetta era maurizio bernasconi giuseppe bertolino piangelo curletto ezzo grosso piangelo giomensa felice volpatti tenori secondi leggete voi che si leggono bene baritoni e bassi massimo peretti maestro su luca gagliano in quel periodo era così c'è un po di storia e qua c'è scritto è noto è partecipato a due concorsi internazionali di montre del 87 del 90 e poi primo secondo posto di due brani inesiti nel concorso regionale coro piemontese ecco sono anche i batti mani spero che si sia sentito un po perché come dico è tutta una roba casalinga ecco allora bo niente qui finisce la cosa del della cassetta con i canti che ci sono dentro la cassetta che stoppando voi li potete vedere è e bo ecco questo è proprio finiti di poi cosa vi faccio vedere però ancora vi faccio vedere le targhe e le targhe ecco queste sono targhe recuperate da curletto piangelo detto flip ecco qua questa qua è una targa beh qui non si vede tanto comunque comune di villanova la corale salieve fiat perché non è ben centrato sto a fare qui un attimino che che cerchiamo di centrarlo un po meglio è allora un attimino che adesso andiamo ecco così probabilmente così andiamo meglio ecco qua si così andiamo meglio rimangono più centrati ecco se no non si si vedono bene già sono tutti sfocati comunque comune di villanova mondo vi la corale ex ex torino settimo festival l'anno era al 1984 quello lì è uno poi c'è la corale del fiat con riconoscenza pro loco di arzello dell'84 anche bella targa con tiri ciolini in fondo anche questa è questa un po sviadita al coro arci rinascita alpignano casellette con riconoscenza alla corale del l'associazione se lievi fiat 25 5 85 questa poi prima rassegna corale fratello gabriele gabriele taburin alla corale del fiat con stima ed amicizia collegio sacra famiglia ecco questo era nel 1990 siamo andati a cantare lì poi il coro rocciavarè riconoscente la corale del fiat in occasione del decimo anniversario di fondazione bruino 1977 87 poi qui c'è un comune di verbagna non c'è scritto altro come si vede che siamo andati a cantare lì hanno ecco qua è scritto coro la piada verbagna quinta rassegna cori popolari di montagna verbania 90 acquisto che c'è scritto ecco qua e poi questo è questo è abbastanza storico questo qui perché l'associazione donatore sangue michelin gruppo di torino corso umbria boh 59 mi sembra attestato di benermerenza l'associazione se lievi fiat per lo spettacolo offerto dal gruppo la corale e fisiorchestra tricò ma ve la ricordate mamma mia la fisiorchestra tricò in occasione della settima premiazione donatori benemeriti pensate c'è la data 4 aprile o primo aprile 4 aprile 1976 ecco e questo qui secondo me è una di quelle più delle targhe più importanti e quindi se ve la stoppate qui la vedete bene 1976 fisiorchestra tricò e si i più i più i più anziani se la ricordano poi ce n'è ancora qualcuno il coro arci rinascita il pignano casellette ce n'era già stata una si vede che siamo andati di nuovo nell'ottantacinque poi qui c'è una la corale delle saglie fiat con riconoscenza pro loco di arzello nell'ottantaquattro corale torino venti anni insieme 67 87 allora corale torino questo qui era già il era già il timbrino giusto è associazione di corale torino 20 anni insieme 67 da se questo qui è famosissimo concerto che abbiamo fatto al teatro massava di torino settembre 87 e sono le date ecco poi c'è ancora questo ecco questo anche è stato importante che eravamo andati al piccolo reggio i cori piontesi al piccolo reggio qui avrei anche tutta la ce l'avrei tutti che me l'aveva lasciati osvaldo mi aveva lasciato aveva tutta la raccolta e dopo che è mancato la moglie me l'aveva da adesso una volta l'altra ne metto qualcuno così almeno vediamo com'era c'erano tutti i libretti era molto interessante comunque niente siamo andati al piccolo reggio nell'ottantuno poi c'è ancora questa l'espressione corale d'ognitempo fra le antiche mura castello di rivoli 1985 poi c'è ancora barbania 85 arte musica e poesia del piemonte seconda edizione 85 il comune e l'associazione pro barbania cura lui capitato attraverso società operaia di colombaro festa della trinità 1983 e poi qui c'è scritto as leona di san sebastiano po così sarà stato non lo so io questo non me lo ricordo poi ce n'è ancora una qua che anche queste sono in alluminio sono molto sbiaditi comune di orbassano centro culturale coro corale torino sesta rassegna corale orbassano l'anno 84 mi sembra sì mi sembra 84 no qui c'è scritto 87 ah sono le date 10 17 24 dell'87 perché era una rassegna e allora erano distribuite in tre serate quindi ancora prima che forse forse questa qui sì questa questa qua corale torino 25 1967 92 questa era bertaina che aveva fatto stava corolla gerla nel 93 e qui eravamo verso verso la fine che poi ci siamo sciolti comunque questa qui deve essere della e questo vedi era alla corale di torino 25 anni ricordo di 25 anni vissuti cantando insieme 31 93 sono finiti lì ecco quello che sono riuscito a raccogliere è quello spero che vi abbia fatto piacere sono contento di di averlo fatto per ricordare un po i tempi passati boh adesso prossimamente vedremo sì c'ho una cosa da farvi poi vedere che sono quando abbiamo ripreso di nuovo può a cantare quella c'è qualche foto qualcosa poi prima o poi dato che di argomenti ne ho diversi cantiere allora vedrò di fare un video anche con quelle cose lì cari amici più che altro qua posso dire cari amici coristi e qualche altro appassionato vi saluto e grazie